Musica Seconda edizione di Ora Tg che purtroppo apriamo con una brutta notizia di cronaca Che arriva da Caltagirone, più precisamente dalla strada per Santo Pietro Lo scontro tra due autovetture, un 79enne ha perduto la vita, una ragazza è rimasta ferita Vediamo Un morto e una giovane donna ferita nell'impatto tra due vetture Verificato si stamani intorno alla volta e 30 sulla strada provinciale Tra Caltagirone e Contrada, Santo Pietro, la vittima è Francesco Russo, 79 anni Deceduto per le conseguenze del violentissimo impatto Tra una Nissan Almera e una Peugeot 2008, li vedete nelle immagini In cui è rimasta ferita una ragazza residente a Bizzini La giovane è stata trasferita a bordo di un'ambulanza del 118 in ospedale Le sue condizioni di salute sono stabili e non sarebbe in pericolo di vita Non c'è stato nulla da fare invece per il 79enne Possibile sia stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida Estratto cadavere dall'Area Mera e dai Vigili del Fuoco La dinamica del violento sinistro stradale è apparsa subito chiara Carabinieri della compagnia Calatina, intervenuti sul posto per i rilievi E la ricostruzione del terribile incidente I mezzi hanno impattato su un tratto in rettilineo Con buona visibilità e manto stradale in ordine Da una prima ricostruzione sembra che l'anziano alla guida della Nissan Almera Abbia perso il controllo del mezzo invadendo la corsia opposta Scontrandosi con la Peugeot che viaggiava nella propria direzione di marcia Inevitabile l'impatto tra le due auto che nel terribile urto si sono accartocciate Inutili soccorsi prestati al pensionato nel tentativo degli animali Da parte di un medico di passaggio che per oltre 40 minuti Ha cercato in vano di strapparlo alla morte Nel luogo dell'incidente è stato fatto convogliare anche l'elisoccorso Rientrato in sede poco dopo Un infarto potrebbe aver sorpreso il 79enne Francesco Russo Mentre stava percorrendo questo tratto della strada provinciale In passato il teatro di altri incidenti gravi con morti e feriti Centri per il rimpatrio dei migranti in tutte le regioni Secondo le indicazioni del governo nazionale entro due mesi Il genio civile dovrà fornire la lista degli immobili Appunto di ristrutturare perché diventino CPR Però già ci sono delle regioni che dicono no come ad esempio la Toscana E intanto in Sicilia si parla di inclusione sociale dei migranti Per ripopolare i paesi delle Madonie Ripopolare il territorio delle Madonie attraverso un piano di inclusione sociale Lavorativa dei cittadini stranieri E così che 57 immobili situati in 20 comuni madoniti Sono stati messi a disposizione dei migranti Si tratta di 54 aziende agricole, edilizie e nell'ambito della ristorazione Realtà ed imprenditori disponibili ad assumere personale Azioni queste che rientrano all'interno di un modello sperimentale Tra gli obiettivi del piano di inclusione accogliente sulle Madonie Realizzato all'interno del progetto interregionale con Min 4.0 C'è il raggiungimento di una rinascita demografica Il piano finanziato dalla regione siciliana È stato presentato stamattina presso l'assessorato regionale della famiglia In questo momento di grande impatto sociale per l'emigrazione Stiamo cercando di costruire dei progetti, quasi un sistema Per poter favorire l'inclusione di queste persone che arrivano nella nostra terra Per cui il progetto è quello di ripopolare i paesini, i borghi Che sono stati abbandonati dai nostri giovani Che può essere un interesse bilaterale Nel senso che famiglie che vogliono restare nella nostra terra Troveranno una loro allocazione E da noi cercheremo di supplire anche il problema della denatilità A mettere in moto l'economia Per cui ritengo che sia un progetto molto valido Infatti ieri a questo convegno che c'è stato a Collesano Erano presenti su 21 sindaci delle Madonie 19 che hanno accolto con grande interesse questo progetto E ripopolare i borghi Mettendo in moto l'economia È un modo per provare a dare una risposta alle problematiche legate al fenomeno migratorio Si tratta per il momento di una sperimentazione Che trae la sua ispirazione da un modello spagnolo Ispirato alla metodologia Nuevos Senderos Già attuata con ottimi risultati Nelle aree interne e rurali di alcune province della Spagna Monsignor Marciante che è il vescovo di Cefalù Già si è attivato Intanto a lui sta molto a cuore questo progetto Si è attivato con la diocesi Ci sono già 50 immobili messi a disposizione Ci sono già imprese per poter accogliere e inserire nel mondo lavorativo Questi immigrati che verranno in queste terre Per cui la comunità è pronta a riceverli E soprattutto ad aiutarli nell'inclusione sociale Intanto a Lampedusa non si fermano gli sbarchi L'hotspot è di nuova in sofferenza Sono stati disposti nuovi trasferimenti di migranti Verso Porto Empeducle Blocco navale subito Cedere Lampedusa all'Africa Questa è la scritta che un attivista della Lega Ha mostrato a Pontida Durante il raduno della Carroccia Una frase che non è passata inosservata De cui si continua a parlare oggi Ad esempio il vicepresidente della regione San Martino Tra l'altro leghista Ha rilasciato una nota dove scrive Sono sbagliate e ingiustificabili Le parole dell'attivista della Lega Lampedusa è avamposto di una Sicilia Che è stata lasciata sola a gestire l'emergenza sbarchi Che richiede una risposta pronta e immediata Alle istituzioni statali ed europee L'Italia deve immediatamente battere un colpo Della sua presenza a Lampedusa L'attivista chieda subito scusa Così il vicepresidente della regione Luca San Martino Voltiamo adesso pagina Lasciamo il capitolo migranti Ci spostiamo ad Cireale Un'ex cereria confiscata alla mafia È stata assegnata al comune Il sito che si estende Su una superficie di 33 mila metri quadrati Verrà utilizzato per scopi sociali Una vasta area con uffici, depositi e capannoni industriali Distribuiti su un terreno di 33 mila metri quadrati Sequestrata e confiscata dalla magistratura di Caltanissetta Passata nella disponibilità dello Stato E adesso assegnata dall'Agenzia Nazionale Che si occupa della gestione dei beni sottratti Alle organizzazioni criminali Al comune di Cireale L'ex cereria Gambino Produceva candele di varia forge e dimensioni A ciclo industriale Disponendo di una buona rete di distribuzione Su tutto il territorio regionale E rivendite sparse in tutta la provincia etnea Prima di finire nel mirino della giustizia Per contiguità mafiose E dal 2022 definitivamente sottratta Alla proprietà e concessa al comune Per fini sociali e di utilità collettiva Stamani il sindaco Roberto Barbagallo Il vice sindaco Valentina Pulvirenti Il dirigente dell'ufficio tecnico L'ingegnere Nicola Russo Hanno svolto un primo sopralluogo Preso visione della superficie E della morfologia del sito Ritagliato a ridosso della zona commerciale Terraviale Cristoforo Colombo E via Cefalù Su un'estensione di 3,3 ettari Il cui valore commerciale A somma svariati milioni di euro Nella particella catastale Il complesso industriale Racchiude due grandi fabbricati Con all'interno macchinari Per la lavorazione e trasformazione della cera Depositi per i lavorati E un negozio in tempo Adebito alla vendita al dettaglio Dal dispositivo di sequestro Al successivo provvedimento di confisca Sono passati anni E gli spazi all'aperto Deturpati da discariche Con ogni sorta di materiale in disuso I depositi depredati Di tutto ciò che aveva un valore Poteva essere rivenduto al mercato nero Il passaggio dei ladri di rame In materiale ferroso Ha devastato ogni cosa Le condizioni degli ex stabilimenti Gambino Sono stati annotati In aria perimetrata Con l'ausilio delle cartine Dall'ingegner russo Che ha preso appunti Su confini e competenze territoriali Essendo il terreno incastonato Tra fondi agricoli E attività commerciali Il sindaco Roberto Barbagallo Ha avviato gli atti propedeutici Alla progettazione Ed ha manifestato l'intenzione Di realizzare qualcosa di utile Alla società civile Con il coinvolgimento Di enti ed associazioni Del territorio Oggi siamo qui insieme Al vice sindaco E all'ingegnere russo Proprio per iniziare A inguadrare A valutare Quali sono le possibilità E anche la morfologia E anche la morfologia Diciamo Dell'area Dell'area stessa E successivamente A questo sopralluogo Sicuramente Ci sederemo Inizieremo A progettare E a capire Cosa può essere utile Dal punto di vista sociale Cioè tutto quello Che la legge prevede Per la nostra città Intanto Ci siamo resi conto Delle possibilità Della morfologia Delle discariche Perché abbiamo trovato Qui anche Un po' di discariche Quindi adesso Andiamo avanti Dal punto di vista Amministrativo E progettando Qualcosa di importante Per la nostra città Città E per il sociale Soprattutto Siamo a ridosso Dell'ingresso Dell'autostrada Si ipotizzava Anche la realizzazione Di una rotatoria Che possa in qualche modo Gestire al meglio Il traffico In uscita Entrata verso la 18 Sì Ritengo che la rotatoria A breve si farà E diciamo che c'è Già un progetto esecutivo Al CAS Che noi stiamo spingendo A punto di vista politico Affinché venga Diciamo Definitivamente Finanziato E quindi Ritengo che Nel più breve tempo possibile Nel giro di un anno Sicuramente ci sarà Questo finanziamento E avremo anche Una rotatoria Proprio davanti All'autostrada Che servirà appunto A smistare il traffico In uscita In più stiamo cercando Insieme alla protezione civile Di ampliare La via Cefalù Proprio qui Qui a lato In maniera tale Quindi di dare Sfoco a questa Circolazione Alla via Cristoforo Colombo E soprattutto Al collegamento Abbiamo parlato con l'amministrazione Vediamo A Catania Non si fa in tempo A ripulire una micro discarica Che entro 24 ore Riappaiono Cumuli di rifiuti Esattamente Nello stesso punto Dove gli operai Delle ditte incaricate Si erano impegnate A ridare Decoro Non è una cosa Non è una cosa Che compete a noi So che il sindaco Insiste molto Sul tema Dei vigili Della sicurezza Perché no Anche dei militari Ma non solo Per la questione Dei rifiuti È un tema Quello della sicurezza Molto avvertito In città Si è reso Protagonista Di parecchi incontri A Roma Non c'è dubbio Che questa città Necessiti di interventi Ed è una battaglia Sulla quale Si sta insistendo Servirebbe Probabilmente servirebbe Vediamo se riusciamo A intenderci prima Con quella parte Di inciviltà Che ancora resiste A Catania Non c'è una Non si registra Una differenza Tra lotti O zone della città L'inciviltà C'è al centro Come c'è In periferia E non è neanche vero Perché lo abbiamo Toccato con mano Che l'abbandono Dei rifiuti Vada Obbligatoriamente Di pari passo Con il quartiere Con la periferia Anzi Spesso Dovele dirlo Ma è così La cosiddetta Media borghesia Coloro i quali Ritengono Di essere Medio borghesi Poi sono i primi Che abbiamo toccato Con mano Facendo le multe Sono stati i primi A rendersi Colpevoli Diciamo così Di queste cose È una lotta Che facciamo Quotidianamente Spesso Ripuliamo la mattina La sera Già si trova Qualche sacchetto Si capisce bene Che non è pensabile Mettere un operatore In ogni via O mettere Uno spazzino Un operatore ecologico Messo lì pronto A levare il sacchetto Di fatto si tratterebbe Di una soluzione estrema Visto il piano Messo in pratica Che ha fatto segnare Dall'insediamento Dell'amministrazione Trantino Ad oggi Un incremento In termini percentuali Di 5 punti La raccolta differenziata Nei tre lotti Resta il centro Quello più sofferente A fronte delle aree Sud e Nord Che registrano Rispettivamente Il 46 Ed il 52% È un dato Che va registrato Nei mesi a seguire Abbiamo tantissima Carne al fuoco Stiamo Lavorando a una Piccola Rivoluzione In città Perché passeremo Finalmente Nelle settimane A venire Passeremo Dalle parole Ai fatti Quindi abbiamo Preparato Tutto quello Che andava preparato Perché bisogna Ben intendere Che prima di Fare qualcosa In una grande città Come Catania Bisogna preparare Gli atti E noi ci siamo Dopo mesi Di studio E di lavoro Pancia a terra Siamo pronti A un grandissimo Investimento Sull'Ottocentro E a rivedere Tutto il progetto Nella sua interezza Siamo pronti Finalmente Con un consiglio comunale Quasi operativo A poter Sottoporre All'autonomia Dell'Aula Finalmente Le nostre proposte In termini di modifiche Dei regolamenti Sui premi Sugli incentivi Tutto ciò che diciamo Dal primo giorno E quindi finalmente Speriamo che E anche Grazie all'inaugurazione Dei nuovi centri di raccolta Prevista tra fino ottobre Inizio novembre Un progetto che seguiamo Quotidianamente Con il sindaco Con l'assessore Parisi Crediamo che Nelle prossime settimane Tutte queste tre cose unite Insieme A tante altre Quindi i controlli Tutto ciò che stiamo facendo In termini di controlli Possa finalmente Segnare la nostra impronta E quello che vorremmo Registrasse Questa città Vigili del fuoco In azione Al porto di Termini Merese Per il recupero Di un peschereccio Affondato nel molo Sul posto Sono intervenuti I sommozzatori La squadra Del distaccamento Poi di Termini Merese L'autogru Del distaccamento Di Brancaccio Il recupero Del peschereccio Si è reso necessario Per limitare L'inquinamento Del mare A causa Dello sversamento Degli idrocarburi Del natante Affondato Spiegato Dal comando provinciale Dei vigili del fuoco Di Palermo Rimaniamo Nella capoluogo Siciliano Sitin Degli ex lavoratori PIP Davanti L'assessorato regionale Al lavoro Il bacino Di circa 2500 persone Chiede Di essere stabilizzato Da due settimane Manifestano Davanti L'assessorato regionale Al lavoro Sono gli ex PIP Un bacino Nato circa 20 anni fa Che oggi Conta 2500 Lavoratori Dal 2001 Ad oggi Gli ex PIP Hanno svolto Svariate mansioni Sono stati impegnati A scuola Negli ospedali Nelle amministrazioni Attualmente Lavorano E percepiscono Un sussidio Anche stamattina Una delegazione Si è riunita Davanti L'assessorato Di via Lettrinacria Un sit-in di protesta Per rivendicare Una stabilizzazione Lavorativa Ci troviamo A sussidio Esattamente Dal 2013 Dal 15 maggio 2013 Aggiungo Nel 2013 Siamo andati A lavorare Con la disoccupazione E abbiamo fatto Un anno di disoccupazione Lavorando A oggi Siamo sussidiati Ci hanno votato La legge Con la disponibilità Rilasciata Dal governo Nazionale Noi siamo Lavoratori Non siamo Persone Che non lavoriamo Siamo Parti di famiglia Che vogliamo lavorare E vogliamo Ness'estimazione Per la vita Ma la vita E di chi è? Io ho 60 anni Dove devo andare ancora? La vicenda La vicenda degli ex PIP Si trascina da anni Risale ad agosto Dello scorso anno La norma Attraverso la quale Si cominciò a parlare Di un percorso Di soluzione Che avrebbe dovuto Portare alla chiusura Della stagione Del precariato Per questi lavoratori 23 anni di lavoro Sussidio lavorativo Messa a nero Si è introdotto Mobilità sostenibile E transizione energetica Il bilancio Della sostenibilità Dell'azienda metropolitana Trasporti e Sosta Catania e S.P.A. La MTS Guarda la mobilità Integrata E la transizione Energetica Ambiente Territorio E risultati Conseguiti Ma anche Gli obiettivi Per il futuro Illustrati Questa mattina Dall'amministratore Unico Giacomo Bellavia Con lui Tra gli altri Il vice sindaco Nonché assessore Alla mobilità Paolo Lagreca E l'assessore Alle politiche comunitarie Sergio Parisi Abbiamo misurato Diversi risultati Dicevo intanto Su tutto il tema Della sosta Che sta diventando smart E quindi stiamo facendo Molta innovazione digitale Su questo Poi il tema Della transizione energetica Con la conversione Del parco mezzi 150 bus elettrici Che stanno arrivando Da qui al 2026 E poi Possiamo ricordare Anche tutta una serie Di altre iniziative Che tendono anche A livello interno Di migliorare La qualità Dei processi interni E la sicurezza Dei lavoratori E questo Speriamo Possa Riversarsi positivamente Anche sulla qualità Del servizio Perché avere un'azienda Organizzata Con lavoratori Che sono Trattati bene Può consentire Di andare avanti Anche nei servizi Di qualità Quali benefici Per la città Di Catania Benefici sono Una rete Di trasporto pubblico Di massa Efficiente Sostenibile E oggi presenterà Dei risultati Eccezionali L'assessore Parisi È stato promotore Di grandissima iniziativa Soprattutto E continueranno Altri ad arrivarne A autobus elettrici E il nostro compito Evidentemente Trovare le modalità Le forme Per migliorare Il contatto di servizio Eventualmente Aumentando i chilometri Perché quello Che ci proponiamo Che l'amministrazione Tarantino vuole fare È evitare Che un cittadino catenese Attenda l'autobus Più di 10 minuti L'obiettivo dunque È livellarsi Alle altre città D'Italia E anche europee Abbiamo bruciato Le tappe Soprattutto Attraverso Delle iniziative Sfruttando I fondi europei Mi riferisco Al Catania To Go Che ha dato La possibilità A 12.000 cittadini Di Fuire Dell'autobus Ma anche Della metropolitana E dei parcheggi Scambiatori A soli 20 euro La restante somma I 500 euro Accettino E li abbiamo messi A punto Con le risorse Del Pommetro Ma anche Una buona pratica Diciamo Esaltata Soprattutto All'Agenzia Per la coesione Territoriale È stata quella Di far diventare Soggetto attuatore La MTS Per accelerare La spesa Sui fondi comunitari E di fatto La MTS È diventata Una sorta di direzione Aggiunta Mi riferisco Ad esempio Alla spesa Sul Sul BRT Ma anche Come ha detto Il vice sindaco La spesa Sull'acquisto Degli autobus Elettrici Ne arriveranno Degli altri Quindi sicuramente Catania diventa Una città più europea Rispetto al passato Scenari di guerra Purtroppo ancora Tristemente aperti In Ucraina Non si arresta La gara di solidarietà Andiamo a Giarre Non dimentichiamo Il popolo ucraino Sono queste Le parole Che i membri Dell'associazione Di volontariato Santa Maria Di Betlemme Hanno voluto Far sentire In modo forte E chiaro Con l'ultima iniziativa Di solidarietà Che hanno realizzato L'associazione Infatti Che ha sede a Macchia di Giarre Ed è formata Da persone cristianamente ispirate Da molti anni Porta avanti Molteplici Attività di solidarietà A favore Dei più indigenti E recentemente Ha deciso Di realizzare Una raccolta Di beni di prima necessità Da inviare in Ucraina E non si tratta Della prima Un carico Era già partito Poco dopo Lo scoppio della guerra Il secondo A novembre del 2022 Ora una terza colletta Più abbondante Delle precedenti Circa 15 tonnellate Di materiale Di cui 4 Di genere alimentare E il resto In indumenti Per affrontare Un nuovo rigido inverno Farmaci Altri beni di necessità Non è stato difficile Raggiungere Questo quantitativo Di materiale Perché l'associazione Che opera anche All'interno Della comunità parrocchiale Di Macchia Ha creato nel tempo Una larga rete Di benefattori Oltre all'apporto Di tante persone generose Che si sono dimostrate Sempre sensibili Alle necessità Del popolo ucraino Provato dalla guerra La settimana scorsa Il tir Partito da Giarra È giunto alla Basilica Santa Sofia di Roma Centro spirituale Degli ucraini in Italia E da lì Alla volta dell'Ucraina Dai responsabili Di Santa Sofia Aggiungono queste parole Grazie di cuore Sono poche Le persone Che fanno le donazioni Che sono vitali Per le persone Che sono rimaste là A tenere duro Contro l'invasione E contro la violazione Del diritto Ad essere liberi Ad essere una nazione Parole di ringraziamento Che suonano anche Come un appello A riflettere A non dimenticare Proprio quello Che ha fatto E continua a fare L'Associazione Santa Maria di Betlemme Con la sua preziosa opera Pulizia dei torrenti Ha riposto In vista Dell'arrivo delle piogge Il Comune Sta ultimando L'intervento Particolare attenzione Agli sbocchi a mare A riposto Si va verso La conclusione Dei lavori Di pulizia Dei torrenti Che nei giorni scorsi Presentavano Delle occlusioni A causa Anche delle violente Mareggiate Che hanno trasportato Detriti e rifiuti Di ogni sorta Situazione questa Che aveva provocato Diversi allagamenti Che per questo Ha reso necessario L'immediato intervento Di squadre E mezzi appositi Per liberare Gli sbocchi a mare Che ad oggi Spiega il sindaco Davide Vasta Sono stati ormai Quasi del tutto Liberati Anche dalle starpaglie Spontanee L'obiettivo È non arrivare Impreparati Nelle aree attigue Al Babbo Al Casanere Al Cozzi Le prossime settimane Sotto la lente Di ingrandimento Dell'amministrazione Comunale In vista Del cambiamento Climatico Che potrebbe portare Piogge consistenti Siamo intervenuti Sulla pulizia Dei torrenti Abbiamo fatto Di tutto Per farlo Prima Dell'inizio Della stagione Delle piogge Diciamo che Ci siamo arrivati In tempo A fare la pulizia Tant'è vero Che con la prima Giornata di piogge Importanti La situazione Ha retto bene Soltanto La Poi Rimozione Della quantità Spaventosa Di rifiuti Non soltanto Quelli derivanti Della scelbatura Ma proprio Di rifiuti In alcuni Torrenti C'erano proprio Delle discariche In una Addirittura Abbiamo dovuto Rimuovere Il telaio Di un'auto Rubata Lavatrici Frigoriferi Pneumatici C'è Veramente Un'importante Quantità Di rifiuti Da togliere Al momento Le ditte Sono impegnate Nella rimozione Dei rifiuti È un'operazione Che porterà via Ancora qualche giorno Ma siamo Diciamo ormai In dirittura D'arrivo Il finanziamento È stato Dato Dall'autorità Di bacino Quindi Non sulle Casse comunali Intervento Fondamentale Per la sicurezza Dei nostri cittadini Le giornate Della vista Nuova tappa A Catania Prima tappa A Catania Anche grazie A un'iniziativa Della comunità Di Sant'Egidio Le giornate Della vista Aiutare le persone Ovunque Nel mondo A vedere meglio E vivere meglio Così recita Lo slogan Dell'iniziativa nazionale Che prevede Visite oculistiche E occhiali da vista Gratuiti A persone in difficoltà Il progetto Che ha riscosso Un lodevole successo A Roma Napoli Bari Pescara Genova Torino Parma Ha consentito Di visitare Circo 800 pazienti Per ogni tappa Persone fragili Con difetti visivi Che hanno ricevuto Visite gratuite E occhiali Con lenti Graduate L'iniziativa Ha fatto tappa In Sicilia Supportata dalla Multinazionale Exilor Luxottica E con il patrocinio Del comune di Catania Ministero delle politiche Sociali E della Camera Dei deputati Stamane la conferenza Stampa a Catania Presso i locali Messi a disposizione Dalla comunità Di Sant'Egidio Nei quali è stata allestita Una clinica Per effettuare Le visite Fino al 27 settembre Lo staff Sarà fornito Dal professore Teresio Avitabile Ordinario Di malattie Dell'apparato visivo E direttore Della clinica Oculistica Dell'Università Di Catania Se questa carovana Non fosse passata Da Catania Seve stato E' stato veramente Un peccato Ma così non è stato Perché anzi Mi hanno contattato Fra i primi In Italia Per questa iniziativa Io immediatamente Ho aderito Dando tutto il supporto Logistico Ma soprattutto Del personale Della clinica Oculistica Per effettuare Questa attività Che è veramente Più che lodevole Perché nessuno Deve rimanere indietro E fare prevenzione Soprattutto A chi non ha La possibilità Di farlo E' veramente Una Impresa lodevole Che dobbiamo Mi raccontava Ieri sera A cena Il dottore Vendita Dobbiamo Al fondatore Di questa Gigante Dell'industria italiana Recentemente Scomparso Del vecchio Che lui Diciamo E' un self-made man Quindi si è fatto Da solo E anche lui Ha conosciuto Le difficoltà Dei meno abbienti E quindi Essendo riuscito A fare un gigante Ha voluto Ricordare Chi è indietro E noi Non potevamo Essere da meno Giornate della vista Un'iniziativa Lodevole Che dà la possibilità Ai più bisognosi Di avere degli occhiali E delle visite Gratuite Sì Le giornate della vista Arrivano anche a Catania Un vero e proprio Giro d'Italia Della vista Dedicato Le persone più Svantaggiate In questo Creiamo una rete virtuosa Insieme a medici Oculisti Ortottisti Ottici E volontari Della Essere Orluxottica E' un vero e proprio Programma globale In Italia E nel mondo Dedicato a sconfiggere I difetti visivi Curabili Ma non curati In questo Ringraziamo Il professor Avitabile Lo staff Che ci ha messo A disposizione E ci consente Di realizzare La mission Di Essere Orluxottica Far sì che tutte Le persone al mondo Possano vedere meglio E quindi vivere meglio Qual è il paziente tipo? Il paziente tipo E' di ogni genere Si tratta di bambini Di adulti Anche anziani Soprattutto famiglie Qual è la patologia Che avete riscontrato? Maggiormente Retinopatia diabetica I pazienti diabetici Sono quelli Che abbiamo riscontrato Più spesso Quindi dopo la visita Poi avete fornito La montatura E gli occhiali Anche graduati Sì E anche i bambini Hanno la possibilità Di avere gli occhiali Da sole Militari americani Volontari Nella scuola media statale Quasimodo di Catania San Giovanni Galermo Nell'ambito Di un progetto Ormai rodato Militari americani Nella scuola media statale Salvatore Quasimodo Di San Giovanni Galermo A Catania Per un progetto Di riqualificazione Dell'edificio scolastico Il gruppo Accompagnato Da responsabile Delle relazioni esterne Della stazione di Sigonella Alberto Lunetta Composto da marescialli E neomarescialli Provenienti da diversi Reparti Della base NASA americana Loro impegnati In attività Di giardinaggio Tinteggiatura E ripulitura Dell'edificio Per rendere più accogliente L'ambiente scolastico Per i piccoli alunni L'evento si inquadra Nell'ambito Dell'attività Di buon vicinato Denominata Community Relation Che i militari americani Svolgono costantemente In tutta l'isola Questa attività È fondamentale Per la scuola Sia perché Riesce a far comprendere Ai ragazzi Quanto sia importante La collaborazione Con le altre culture Sia perché Consente ai ragazzi Di confrontarsi Con gli altri E aiutare anche Il miglioramento Della scuola Far comprendere Appunto che La scuola È un bene di tutti E la scuola Non è soltanto Un luogo in cui si studia Ma è un luogo Anche in cui Si partecipa Alla condivisione Con gli altri Importantissimo Il supporto Che ci dà Nassa Sigonella Nella realizzazione Di queste attività Questa è soltanto Una delle tante attività Che vengono svolte E appunto Perché riesce A supportare Laddove Non è possibile Intervenire Magari con i fondi statali O con i fondi comunali Questo è Un progetto Che noi portiamo avanti Da diversi anni Si tratta di Un evento Che si inquadra Nell'ambito Del community relations Un'attività di volontariato Che i militari americani Svolgono In tutta l'isola In particolare Oggi abbiamo Un gruppo di marescialli E neomarescialli Che stanno facendo Un indottrinamento Che dura Sei settimane Nell'ambito del quale Vengono fatte Delle attività Di volontariato Quindi abbiamo Un misto Di marescialli Già in servizio E neonominati Questa è un'attività Chiaramente manuale Ma noi all'interno Delle scuole siciliane Facciamo anche un'attività Di didattica linguistica Che è molto richiesta E quindi Diciamo Si tratta di Essenzialmente Incontrare Gli amici siciliani Che ospitano La nas siconella Americana Fin dal 1959 Rieccoci in studio Dopo la pubblicità Non ci sono notizie Dell'ultima ora E chiediamo il giornale Con il meteo Le previsioni del tempo In Sicilia Del 20 settembre Vedete Cielo Parzialmente Nuvoloso Un po' ovunque Nella nostra Isola O comunque Meno soleggiato Rispetto Alla giornata Di oggi I venti Saranno deboli Ma con rinforzi Nella zona Orientale Dell'isola I mari Poco mossi Le temperature Adesso Vediamo insieme Il secondo cartello Più o meno Stazionarie Rispetto a quanto Registrato oggi Con temperature Molto alte Soprattutto Nella fascia Orientale Dell'isola Dove Ad esempio Oggi Sono stati Registrati Diversi Incendi Proprio Non scatenati Ma comunque Alimentati Certamente Sì Dal Caldo E dal Vento Con il Meteo Noi Dunque Ci fermiamo Termina qui Questa seconda edizione Del nostro Telegiornale Prossimo appuntamento Con Ora Tg Domani alle ore 14 Grazie per la vostra compagnia Buono proseguimento Di serata a voi tutti Grazie per la vostra compagnia